Benvenuti a questo webinar, oggi parleremo di partecipazione, io sono Michela Di Bitonto di Forma XPA, abbiamo con noi l'assessore alla partecipazione alla cittadinanza attiva e open data, Lorenzo Lipparini, che ci parlerà oggi dell'esperienza del Comune di Milano. Quindi dal precedente webinar della scorsa settimana, dove abbiamo parlato di metodologie e per la partecipazione, oggi andremo a vedere un'esperienza concreta con l'assessore che ci parlerà dell'esperienza di Milano. Nell'attesa che si colleghino gli altri partecipanti, io vi racconto un po' le iniziative di questo progetto. Questi webinar sono organizzati nell'ambito del progetto Azioni di Sistema per promuovere la conoscenza sulle tematiche istituzionali e la partecipazione dei cittadini attraverso la consultazione anche con strumenti pubblici. È un'iniziativa congiunta del Dipartimento per le riforme istituzionali e il Dipartimento per la funzione pubblica con il supporto di Forma XPA, con l'obiettivo generale di rafforzare le politiche di consultazione e di partecipazione pubblica e quindi di diffondere la cultura dell'amministrazione aperta. Abbiamo svolto diversi webinar nell'ambito di questo progetto, abbiamo parlato di consultazione pubblica e delle fasi che compongono il processo per realizzare, progettare e rendere conto di una consultazione pubblica. Adesso con questo ciclo di webinar invece parleremo della partecipazione, in particolare è stato come vi dicevo prima fatto un webinar sulle forme di coinvolgimento e metodi con la collega Laura Manconi la scorsa settimana, vi potete vedere anche la registrazione sull'NTPI. Oggi parleremo dell'esperienza del Comune di Milano e poi abbiamo altri appuntamenti, quelli che vedete sottolineati già sono presenti sull'NTPI e vi potete registrare, con Parma lunedì prossimo, Reggio Emilia e la Civica di Milano. Quindi vi invito a vedere eventualmente le registrazioni dei webinar passati e iscrivervi a quelli futuri. Un altro ciclo che partirà questa stessa settimana è dedicato alla piattaforma Partecipa, una nuova piattaforma messa online su iniziativa del governo italiano e in particolare nell'ambito di questo stesso progetto, quindi con il Dipartimento della Funzione Pubblica e con il Dipartimento per le Riforme Istituzionali, è stata lanciata la scorsa settimana la piattaforma Partecipa, che è uno strumento di partecipazione basato sul software desidim che permette alle pubbliche amministrazioni di gestire le consultazioni pubbliche online. Ciao a tutti, buongiorno, scusate intervengo io perché la collega Michela evidentemente ha un problema tecnico come potete vedere bloccata, spero che sia una cosa molto veloce che si possa recuperare. Michela vi stava raccontando dei prossimi appuntamenti che sono legati al ciclo di consultazioni pubbliche che saranno attivate sulla piattaforma Partecipa. Ovviamente questi eventi sono anche pubblicati sul nostro sito Eventi.pa attraverso il quale è possibile registrarsi. Trovate ovviamente tutti i webinar che abbiamo già organizzato e quelli che ancora saranno organizzati nell'ambito del progetto che, come diceva Michela, è un'iniziativa congiunta dei due dipartimenti Funzione Pubblica e Riforme Istituzionali a questo link. Ecco che Michela è rientrata. Grazie Laura, non so cosa sia successo, sono stata buttata fuori da Laura. Mi è bloccato, però l'abbiamo recuperato. Grazie Laura, grazie mille. I colleghi sempre a supporto. Quindi come diceva Laura, comunque tutti i progetti del webinar potete, tutti i webinar del progetto potete vederli a questo link, quindi visualizzare quelli passati e iscrivervi a quelli futuri. Abbiamo un programma come avete visto intenso nelle prossime settimane. Vi ricordo che potete porre le domande all'assessore tramite la chat, noi le filtreremo e cercheremo di porle al termine del suo intervento e vi ricordiamo che la registrazione e i materiali verranno condivisi su Eventi PA, quindi al termine del webinar, un po' dopo per la registrazione, avrete la possibilità comunque di rivedere il webinar a questa pagina dove vi siete scritti. Quindi io direi a questo punto di dare la parola all'assessore Lipparini che ci parlerà dell'esperienza di Milano, quindi a lei la parola. Grazie mille, buon webinar a tutti. Grazie, grazie dell'invito, dell'occasione e della possibilità, spero che si senta tutto bene. Io ho anche delle slide, me le mettete su voi. Ecco qua, un rendiconto, questo è di un paio di mesi fa, ma la situazione è sostanzialmente questa. Ma innanzitutto visto che tra gli incontri che sono stati organizzati tra neanche una decina di giorni ci sarà quello sulla rete civica di Milano, diciamo che da un punto di vista cronologico la nostra esperienza deve molto all'esperienza della rete civica milanese che è una realtà che è nata ormai 25 anni fa. Abbiamo proprio neanche dieci giorni fa fatto il compleanno della rete civica di Milano, nel corso di queste tre giorni Milano partecipa che è stata organizzata un festival, è arrivata la prima edizione organizzata al Comune di Milano e da Fondazione Cariplo proprio per mettere in discussione, affrontare i temi delle esperienze partecipative svolte a Milano o comunque che hanno avuto dei legami con questo territorio negli ultimi anni e è stata un'occasione anche per fare la festa di rete civica milanese, che è un'esperienza che nasce dall'Università di Milano, dal Dipartimento di Informatica, ma che vede tra gli altri il Comune di Milano come socio onorario di questa piattaforma e della modalità con cui abbiamo iniziato a lavorare quando tre anni fa ormai abbiamo attivato il lavoro del nuovo assessorato alla partecipazione cittadinanza attiva e open data del Comune di Milano, perché abbiamo scelto di lavorare a stretto contatto con l'Università, con i gruppi civici come la rete civica che già lavorava negli ultimi decenni su questi temi e con la ricchissima realtà di organizzazioni enti e specialisti che a Milano hanno sede o lavorano sui temi della partecipazione. Abbiamo cercato di farlo in questa maniera perché non volevamo solo ed esclusivamente creare dei processi a supporto della partecipazione del nostro ente, ma volevamo cercare di mettere in piedi un modo di lavorare che da un lato manifestasse la volontà di apertura, di ascolto, di condivisione, di collaborazione del Comune con i portatori di interesse cittadini, dall'altro servisse per mettere le basi di una modalità di una definizione di regole e di procedure partecipative di qualità anche che potessero aggiornare il nostro strumento delle regole, lo statuto, il regolamento, gli standard della partecipazione. Quindi come stiamo lavorando? Stiamo lavorando in un network internazionale molto qualificato, ce ne sono almeno un paio di realtà internazionali con le quali ci stiamo confrontando con una certa assiduità. La prima è quella dell'associazione di EuroCities che è l'associazione delle medie e grandi città europee, un'associazione che mette insieme amministratori e tecnici di decine di città che lavorano su singole tematiche, quindi ci sono diversi tavoli attivi che affrontano in questo caso quello che io seguo il tavolo relativo a tutto quello che è è la partecipazione e la trasparenza. C'è poi il network dell'Open Government Partnership che è quell'organizzazione lanciata da Obama diversi anni fa quando era presidente che mette insieme i governi sui temi della partecipazione e della trasparenza e a cascata a Milano abbiamo iniziato a lavorare come città pilota locale nel piano d'azione nazionale sull'Open Government già ormai in due edizioni e quindi stiamo proponendo le nostre attività come terreno di sperimentazione in ambito del piano d'azione nazionale ma in questo contesto internazionale e stiamo lavorando all'innovazione di quelli che erano i nostri strumenti partecipativi preesistenti e l'ideazione di quelli nuovi nell'ambito di progetti europei che con altre città ci consentano di avere una forte analisi e studio e approfondimento per quello che sono i risultati per cui il lavoro che abbiamo fatto su tutti i nostri procedimenti, adesso ve ne illustro qualche cosa soprattutto a partire dagli ultimi bilanci partecipativi che abbiamo fatto hanno avuto come obiettivo quello di misurare l'impatto sulla fiducia di misurare, di profilare meglio chi sono le persone che partecipano che cosa fare per migliorare questi processi partecipativi abbiamo deciso di partire dalla trasparenza di mettere insieme la trasparenza con la partecipazione perché siamo consapevoli del fatto che una buona partecipazione può essere fatta solo ed esclusivamente se c'è consapevolezza e conoscenza degli argomenti trattati quindi qui vedete una prima slide abbiamo lavorato innanzitutto sugli adempimenti per poi muovere verso modalità maggiori di performance rispetto all'esibizione dei nostri dati e informazioni per quello che riguarda gli adempimenti di trasparenza abbiamo fatto dei grandissimi passi avanti dal punto di vista normativo negli ultimi anni anche il Comune di Milano quando abbiamo avviato il mandato non era pienamente performante abbiamo calcolato un indice interno di trasparenza che andava poco oltre il 50 su un indice base 100 siamo nel frattempo arrivati in un anno e mezzo praticamente a pieni voti per quello che riguarda la performance di trasparenza abbiamo aderito, queste sono le cose internazionali abbiamo, che dicevo prima, quindi Open Government abbiamo organizzato una riunione anche a Milano per portare anche a livello locale le questioni relative al piano d'azione nazionale e abbiamo iniziato a fare delle iniziative nell'ambito del piano d'azione nazionale per aumentare quella che era la trasparenza dovuta data per gli adempimenti nella trasparenza voluta o comunque nella piena accessibilità dei dati e delle informazioni per cui una delle azioni che ho messo in pratica a partire dal precedente piano d'azione nazionale sull'Open Government è stata la rendicontazione della mia agenda, l'agenda pubblica degli incontri che i miei portatori di interesse sono prevalentemente associazioni di cittadini e gruppi attivi sul territorio però io rendi conto quello che sono le attività con soggetti esterne all'amministrazione quindi non è un'agenda trasparente di tutto quello che faccio a che ora a fine voyeuristico o organizzativo dei rapporti che ho con i miei colleghi internamente ma rispetto all'esterno è tutto rendicontato e pubblicato in open data per poter essere anche rielaborato infatti vedete che la maggior parte delle persone che incontro sono proprio cittadini piuttosto che enti, soprattutto università, in misura minore le aziende diciamo che questa attività di misurazione delle performance ci è stata certificata anche da un organismo tra virgolette terzo nazionale questa è un'associazione, l'associazione italiana Digital Revolution ha usato un bot, uno strumento automatico che andasse ad indagare nei nostri siti la performance di trasparenza automaticamente avendo in pasto diversi siti di pubblica amministrazione è stato calcolato che siamo stati premiati per essere arrivati primi come livello di trasparenza sul sito istituzionale rispetto agli obblighi di trasparenza ecco, tutti i dati, ce n'è un altro forse in una slide successiva comunque, vi dico, noi abbiamo aumentato la disponibilità di dati sul portale OpenData da 200 a circa 1000 dataset quindi stiamo investendo tantissimo nella disponibilità di dati e di informazioni non è solo una questione di quantità stiamo lavorando tantissimo anche per la capacità di leggere questi dati e queste informazioni creando cruscotti e creando strategie di consultazione autonoma delle informazioni del comune quindi molto più informazioni, molto più accessibili, molto più di qualità a che cosa servono tutti questi investimenti sulla trasparenza oltre che a rispettare le norme? serve anche e soprattutto a creare dei processi partecipativi di qualità e consapevoli il bilancio partecipativo che abbiamo rilanciato in questo mandato ci ha visto coinvolgere quasi 30.000 cittadini su una procedura sostanzialmente online portata avanti insieme alla Fondazione Rete Civica Milanese in questo progetto europeo una piattaforma per gestire i bilanci partecipativi e una serie di attività sul terreno che ci consentissero a partire dal network delle case, delle associazioni, del volontariato e dei municipi, quindi le articolazioni locali del comune che sono 9 di far emergere dal basso oltre a 300 proposti di progetti che sono stati coprogettati in 47 progetti immediatamente realizzabili e selezionati attraverso una procedura di voto online e cartacea per far emergere i nuovi progetti inseriti nel piano terreno delle opere pubbliche che stiamo realizzando entro il 21 questo diciamo c'è stato anche un riconoscimento per il bilancio partecipativo del comune di Milano di questa edizione una particolare attività che vi anticipavo relativa al bilancio partecipativo è stata proprio la profilazione dei soggetti partecipanti e la raccolta dati che sono sul nostro portale open data rispetto a come funzionano gli effetti sulla fiducia di queste attività devo dire una delle cose più significative è stato il livello di scambio e di contaminazione reciproca tra i tecnici del comune di Milano che hanno trovato della progettazione diffusa da parte dei cittadini di altissima qualità a fronte della comprensione da parte dei cittadini della grandissima competenza tecnica che hanno i nostri funzionari e dei limiti normativi che accompagnano tutto il mondo specialmente dei lavori pubblici come in questo caso il bilancio partecipativo l'abbiamo fatto su 13 milioni di euro sulle ultime due edizioni per realizzare interventi sul territorio di lavori pubblici quindi abbiamo raccolto moltissimi dati sui partecipanti il limite che abbiamo riscontrato è soprattutto nella capacità di coinvolgere soggetti marginali rispetto alle procedure anche se abbiamo fatto un processo online supportato da una forte presenza con oltre 200 incontri sul territorio assemblee tradizionali e diffuse ecco sono ancora tantissime le persone che con diciamo livelli di istruzione quindi di reddito più basse che non riusciamo a raggiungere con questi procedimenti diciamo la altissima qualità dei progetti e dell'interazione con i cittadini è anche una diciamo conseguenza e raffigurazione del fatto che sono stati soprattutto professionisti a partecipare soprattutto persone che avevano una laurea in tasca delle capacità di portare avanti le proposte o del tempo semplicemente da dedicare alla partecipazione e questa è stata un po' anche la cosa che abbiamo appreso rispetto a questo procedimento e sulla quale ci stiamo interrogando per le nuove edizioni per essere ancora più inclusivi abbiamo poi sperimentato un dibattito pubblico sulla base di quella che è stata l'innovazione del codice degli appalti che ha introdotto l'obbligo per fare di fare dibattiti pubblici quando si parla di grandi opere noi in questo caso stavamo parlando sì di una grande opera perché abbiamo discusso del progetto di riapertura dei navigli sono otto chilometri all'interno del centro storico di Milano per riportare l'acqua navigabile all'interno del centro del comune di Milano è un progetto costoso impattante circa 500 milioni di euro ma in realtà secondo quelle che sono le normative nazionali non avremmo avuto obblighi di fare un dibattito pubblico per ragioni di tipologie di intervento abbiamo scelto invece di farlo lo stesso di fare la dimensione locale perché crediamo che anche tutto quello che arrivi sotto una soglia di spesa o le tipologie di opere di cui ci occupiamo come amministrazioni locali abbiano un forte beneficio usare la metodologia che è di fatto importata dal debatt public francese per discutere della modalità e dell'opportunità di realizzazione di opere pubbliche sul nostro territorio quindi abbiamo fatto un sito internet abbiamo messo tutto online anche in questo caso per riuscire in open data e in consultazione libera anche in questo caso per poter fare una partecipazione consapevole abbiamo organizzato 23 incontri sul terreno abbiamo raccolto i quaderni degli attori di soggetti organizzati associazioni di categoria, sindacati associazioni datoriali, associazioni ambientaliste di gruppi di cittadini, comitati di quartiere e abbiamo raccolto diverse centinaia di osservazioni che poi hanno impattato perché abbiamo profondamente cambiato il nostro orientamento rispetto a questo grande progetto che noi prevedevamo di realizzare per fasi aprendo prima cinque tratti e poi completando abbiamo capito che questa cosa aveva un senso se realizzata in una versione complessiva che interveniva sia sul piano dell'urbanistica sia sul piano della mobilità sia sulla continuità navigabile con i territori esterni al comune di Milano quindi abbiamo cercato di riprendere in mano il progetto e stiamo adesso sviluppando una nuova versione che tiene conto delle osservazioni ricevute è stata un'esperienza molto potente di interazione di cui c'è stato un grande riscontro anche nel dibattito giornalistico con centinaia di articoli pubblicati o quasi un milione di interazioni sui canali social dove abbiamo parlato di questa cosa abbiamo anche preso un riconoscimento anche in questo caso sulla realizzazione di questa cosa insieme ad altre amministrazioni in questo caso al ministero della funzione pubblica per aver realizzato un'attività di open government nella sezione partecipazione accountability abbiamo poi sviluppato come tantissime altre amministrazioni un regolamento sull'amministrazione condivisa che ci serve per poter trattare finalmente con soggetti informali progetti di rigenerazione urbana richiesti dalla cittadinanza attiva dei quartieri in questo caso abbiamo portato a livello ambrosiano milanese quello che era l'esperienza degli anni scorsi di Bologna e di altre città abbiamo risolto problemi relativamente all'assicurazione dei cittadini che fanno attività volontaria sul territorio abbiamo preso l'esperienza della cura del verde dei giardini condivisi degli orti urbani e l'abbiamo trasferita sulla cura delle strade delle piazze anche degli immobili la gestione degli immobili e siamo riusciti a modellizzare questa procedura per negoziare e coprogettare gli interventi che emergono dal basso fare delle istruttorie fare l'analisi dei sottoservizi di tutto quello che è la fattibilità degli interventi anche quella che è la fattibilità economica noi non mettiamo risorse dirette per finanziare gli interventi ma riusciamo a trovare gli sponsor e i finanziatori che poi trasferiscono le risorse per la realizzazione degli interventi oppure forniamo beni strumentali e materiali come le vernici, materiali di consumo per riuscire a realizzare le attività ecco in sei mesi siamo partiti nel maggio di quest'anno del 2019 ecco il dato qua è da aggiornare sono oltre 40 i patti che abbiamo raccolto 20 portati a conclusione ma sono veramente molto vari come tipologia sono scomparso in video ma secondo me ci sono ancora se mi sentite sono interventi molto vari perché vanno appunto dalla cura del verde alla realizzazione di nuove piazze si sente? solo per avere la certezza anche se mi sembra che sia scomparso il video si si sente puoi provare a disattivare e riattivare la webcam per vedere se funziona nuovamente ok proviamo così ecco vediamo intanto andiamo avanti allora le tipologie di patti che abbiamo raccolto sono molto variegati per cui siamo partiti dall'esperienza del verde siamo passati sulla cura e la rigenerazione di tratti di strada adesso abbiamo raccolto con un avviso pubblico oltre 50 proposte di creazione di nuove piazze le abbiamo chiamate piazze aperte sono spazi diciamo stradali luoghi all'aperto che oggi sono prevalentemente occupate da sosta solitamente non autorizzata e che invece vogliamo riconquistare all'utilizzo della socialità delle comunità territoriali attraverso degli interventi di urbanismo tattico quindi di trasformazioni molto leggere veloci a poco costo che possono cambiare diciamo la qualità della vita dei territori ma anche l'aspetto di questi spazi pubblici con le installazioni di panchine, disegna terra, vasi, arredo urbano e procedere quindi ad una sperimentazione che possiamo poi trasformare in maniera più solida in maniera definitiva solo a valle della della sperimentazione della sperimentazione all'interno per esempio dei patti di collaborazione abbiamo iniziato a raccogliere anche delle proposte di patti di collaborazione che avessero come oggetto dei beni immateriali in questo caso l'assistenza religiosa abbiamo messo insieme le comunità oltre 30 associazioni e comunità religiose presenti a Milano mettendo insieme da ebrei, musulmani, nuovi culti e anche gli atei per la gestione del servizio di assistenza spirituale in un paio delle nostre case di assistenza e di cura e all'interno delle quali abbiamo aperto le stanze di silenzio che vengono adesso gestite in base ad un patto di collaborazione attivato quindi non solo beni di rigenerazione urbana ma anche dei beni immateriali sempre sull'ambito partecipazione cittadinanza attiva abbiamo collaborato con realtà come Wikimedia Italia per la cultura del sapere libero e il diritto a diffondere immagini del nostro patrimonio culturale con fine di promuovere il valore del nostro patrimonio artistico monumentale e museale siamo riusciti quindi a fare un accordo che si è rinnovato già negli ultimi tre anni con Wikiloss Monuments che ha portato ad avere anche delle foto premiate ultimamente ecco il portale open data forse lo citavo prima ma comunque è il luogo dove stiamo raccogliendo tutti i contenuti perché cerchiamo di non solo di aumentare come quantità ma anche di rendere maggiormente fruibile come vi dicevo adesso ormai siamo a quasi mille i dataset ma soprattutto creare delle cose di questo genere che sono delle mappe di consultazione dinamica che consente di andare a spulciare in questo caso per esempio il bilancio e di sapere da dove vengono e da dove vanno le spese del comune che si può andare a navigare fino alle spese minute questo è un progetto open data che parte dalle solite tabelle del bilancio ma che ti consente di consultarlo anche senza delle particolari competenze tecniche sul geoportale abbiamo iniziato a pubblicare le mappe i dataset collegati a delle fruizioni a una distribuzione latitudine e longitudine sulle nostre mappe sono sicuramente la parte più fruibile e immediata del nostro patrimonio dati perché chiunque può leggere con facilità e competenza i dati geografici questo è un esempio del patrimonio immobiliare quelle rossi sono gli immobili sono stabili edifici, case, uffici pubblici mentre quelle verde sono i terreni si capisce tranquillamente il patrimonio del comune di Milano non va solo all'interno del confine amministrativo del comune di Milano ma va anche fuori per ragioni diverse in particolare le linee che si allontanano in maniera, insomma queste linee dritte che si allontanano sono le linee metropolitane che vanno fuori dal comune che ha praticamente acquistato i terreni e costruito le stazioni che sono di nostra proprietà dove si ferma la linea metropolitana poi c'è una bella fetta del parco di Monza invece che è di proprietà del comune di Milano non so bene perché ecco sono degli esempi di dataset che vengono accompagnati nella lettura proprio da strumenti potenti come le visualizzazioni sul portale open data o le mappe sul geoportale dove si possono anche poi cliccare ogni singolo bene e consultare la scheda di chi ce l'ha di quale e dove ci sono un altro esempio è il patrimonio del verde dove più o meno con la stessa struttura del patrimonio immobiliare si può andare a cliccare su ogni singolo albero in questo caso abbiamo quasi mezzo milione di alberi e sapere la tipologia di albero l'età l'ombra che proietta terra e un po' di dati parametrici sul consumo di acqua sul su quanta CO2 usa e cose di questo genere anche questo è stato oggetto di un riconoscimento invece di Esri che è il nostro fornitore il PGT online è una di quelle attività che abbiamo potuto costruire a partire dalla digitalizzazione dei processi come la realizzazione delle mappe online sul geoportale noi abbiamo costruito tutta la riedizione del piano di governo del territorio quindi degli strumenti di regolazione del territorio per fare in modo che possano essere consultate quindi utilizzate soprattutto da una popolazione professionistica degli architetti, degli ingegneri di chi lavora su queste materie ma soprattutto commentata nella fase di revisione che si è chiusa a settembre di quest'anno era possibile abbinare il dato aperto alla partecipazione perché tutto il piano che avevamo predisposto e tutte le diverse mappe che raccontano della struttura geologica dei sottoservizi della diffusione dei vari servizi come i servizi edifici di culto e cose di questo genere erano consultabili online le osservazioni che abbiamo raccolto più di 1600 erano possibili farle dopo aver consultato il testo e le mappe che accompagnavano il geoportale quindi per poter contribuire bisognava sapere di che cosa si stesse parlando bisognava consultare il testo e si poteva direttamente una volta autenticati entrare a scrivere una riformulazione dei singoli paragrafi del piano delle regole o osservare con degli strumenti di disegno su mappa direttamente sul geoportale le varie azioni da proporre sul sistema delle mappe che accompagnavano il PGT questo è stato uno strumento che ha reso molto più facile la contribuzione molto più facile la gestione del lavoro interno degli uffici per smistare tutte le osservazioni alle varie uffici competenti è immediata la pubblicazione e oggi la fruizione di documenti sul territorio che prima erano fruibili solo su grossi PDF con informazioni non stratificate e quindi bisogna andare a prendere diverse mappe stamparle o diciamo scaricare dei file enormi e oggi sono tutti fruibili online vabbè delibere eventi di divulgazione questo qua insomma sono qualche altra informazione ecco abbiamo cercato di mettere tutto a sistema all'interno di questa tre giorni che si è organizzata dal 22 al 24 di novembre al museo delle culture al padiglione Visconti a Cariplo Factory di Milano abbiamo fatto oltre 120 incontri dove abbiamo presentato un po' tutte queste attività ecco a Milano noi lavoriamo strettamente come dicevo con l'università ma con tante realtà private e di cittadini che lavorano su queste tematiche e l'obiettivo è quello anche come l'ascito di questi tre giorni di approfondimento quello di andare verso la creazione di un nuovo statuto e di un nuovo regolamento per l'attuazione di diritti di partecipazione che vada ad innovare quelle che sono le nostre pratiche anche con uno spirito di riuso e di proposizione di un nuovo standard per quello che riguarda le pratiche partecipative per le realtà locali io credo che rispetto alla trasparenza negli ultimi anni abbiamo fatto dei passi avanti incredibili dal punto di vista normativo dal punto di vista degli standard della lettura trasversale dei dati tra diverse amministrazioni perché abbiamo tutti gli stessi obblighi e abbiamo fatto delle esperienze molto interessanti su quello che riguarda la trasparenza per quello che riguarda la partecipazione i tempi sono maturi perché si faccia un'evoluzione simile cioè si vada a creare delle linee guida che tengano conto delle migliori pratiche internazionali l'open government partnership è una o piuttosto che le varie carte che ha fatto anche la commissione europea in ambito di partecipazione quelle che sono le esperienze portate avanti dal governo dal dipartimento della funzione pubblica già abbiamo delle linee guida per quello che riguarda le consultazioni ma per fare io credo un aggiornamento del testo unico degli enti locali dove si prevedono ecco alcuni strumenti partecipativi da attivare in tutte le realtà oggi tutti hanno delibere di iniziative popolari referendum perché sono degli obblighi non tutti fanno bilanci partecipativi dibattiti pubblici a livello locale quindi a dimensione urbana cittadina non tutti diciamo possono portare avanti delle pratiche partecipative che abbiano degli standard uguali con standard pensiamo per esempio al diritto all'accesso cioè da che età si può contribuire se solo i cittadini di un comune possono dire la loro per quello che riguarda la governance di quella realtà se bisogna essere dotati di diritto di voto ecco a Milano noi queste cose alcune di queste cose le avevamo già sistemate non molto tempo fa nel 2016 quando abbiamo revisionato lo statuto in senso molto inclusivo per quello che riguarda la partecipazione a Milano lo statuto prevede che si possa partecipare da 16 anni in su indipendentemente dallo status di cittadinanza chi è qui può partecipare quindi cittadini italiani europei o stranieri lo possono fare anche le persone che non sono residenti a Milano ma che hanno un rapporto continuativo con la città e quindi possono dimostrare di studiare di studiare o di lavorare a Milano o di frequentare abitudini con una certa frequenza a Milano possono partecipare a tutti i nostri strumenti e lo possono fare anche in formato digitale quindi c'è stabilità una perfetta sovrapposizione tra quelli che sono gli strumenti tradizionali e gli strumenti digitali per fare un'assistenza alla digitalizzazione dei processi che non può e non deve in questa fase secondo me sostituire quello che già era le modalità tradizionali ma può aggiungere potenzialità e capacità per molti per rendere più facile la partecipazione noi abbiamo aderito pienamente a quello che è lo standard di speed del servizio pubblico di identità digitale per quello che riguarda il riconoscimento dei nostri cittadini l'abbiamo integrato al sistema del nostro fascicolo del cittadino e di quello che è quindi la banca dati anagrafica di chi c'è almeno per vedere di fare una corrispondenza tra chi partecipa da residente e quelli che sono i nostri i nostri dati di anagrafe e stiamo predisponendo anche noi un'evoluzione di decidim quindi della piattaforma partecipativa dei comuni di Barcellona per gestire non solo le consultazioni ma tutti i processi partecipativi che finora abbiamo organizzato su diverse piattaforme noi abbiamo fatto dei siti specifici sul dibattito pubblico uno specifico oggetto di un progetto Horizon 2020 della commissione europea per il bilancio partecipativo oggi stiamo andando verso un'integrazione di questi strumenti sulla piattaforma di decidim e un'integrazione della piattaforma con il nostro sistema dei portali del comune di Milano per dare al cittadino un'esperienza integrata di utilizzo quindi una sola password per tutti i servizi dalle tasse alle multe ai certificati online alla partecipazione è un unico ambiente quindi quando si va a consultare i propri dati online ci si troverà anche la componente relativa alle domande e alle opportunità legate alla partecipazione e stiamo cercando di digitalizzare non solo diciamo consultazioni dall'alto al basso piuttosto che diciamo la possibilità di segnalare opinioni e opportunità al comune ma di digitalizzare tutti i processi di raccolta firme sulle petizioni sulle delibere di iniziativa popolare l'attivazione di richieste di referendum quindi tutto quello che prima facevamo cartaceo e che ha dei forti vincoli di legge e procedurali quindi molto supportati da regolamenti e cose di questo genere configurati su una piattaforma open source che è la stessa appunto su cui sta lavorando il governo ed è la stessa della grande città come Marcellona già usata anche da Helsinki quindi è un lavoro di programmazione di adattamento a quelle che sono le esigenze di una realtà locale per fare partecipazione anche nei comuni che ovviamente come tutto con quello che è lo spirito dell'open source sarà a disposizione anche anche in riuso quindi per la per poter diciamo sviluppare anche nuove nuovi elementi nuove funzionalità una di quelle su cui stiamo pensando di lavorare per esempio tutto quello che è la creazione di nuove funzionalità all'interno di questo ecosistema per la gestione dei patti di collaborazione quindi avere anche nuovi sistemi ma sempre nello stesso ambiente integrato e integrato anche quello che è il sistema dei dati della rendicontazione e quindi della trasparenza al fine di poter fare una partecipazione consapevole e informata io a grandi linee le cose che avevo in mente mi fermerei qui e mi dedicherei invece un'interazione che è stato fatto e che si farà in futuro in ambito di partecipazione se vuole puoi lasciare anche la webcam accesa riproviamo a vedere se riparte abbiamo bastato un pochino la risoluzione oggi le tecnologie insomma non sono dalla nostra parte anche se dalla sua presentazione invece vediamo le potenzialità insomma delle tecnologie comunque vedo che la webcam è ancora bloccata ma non ci sono problemi può lasciarla attiva le pongo le domande che sono arrivate allora abbiamo una domanda di Tiziano Dosa che chiede la partecipazione dei cittadini quanto vincola le scelte locali sulle nuove infrastrutture o sulla realizzazione dei progetti in corso dovrebbe attivare il microfono in questo momento sì 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 vado si sente? sì ok no quanto vincola dipende dal sistema delle regole nel senso su ogni singola realizzazione opera pubblica nuova nuovo progetto si può o non si può fare della partecipazione noi cerchiamo di farla su quelle opere e su quei progetti strategici e lo facciamo proponendo un patto di partecipazione che è lo strumento dentro il quale ci sono scritti gli strumenti i vincoli e gli strumenti a disposizione della partecipazione quindi bisogna dire prima quale sarà il percorso e quali saranno i risultati questo è quello che abbiamo fatto per esempio sulla questione dei navigli in altri casi non sono sempre diciamo interventi pubblici quelli che avvengono in grandi città spesso sono operazioni gestite insieme a privati in quel caso lì si negozia o si decide insieme se fare dei percorsi partecipativi noi lo proponiamo sempre però diciamo c'è una scelta anche che ricade sui singoli proponenti noi abbiamo incentivato nel piano di governo del territorio ecco incentivi economici alla realizzazione dei percorsi di partecipazione per fare in modo che anche gli interventi sviluppati privati abbiano un interesse ad andare in quella direzione Sì scusate sì sulla Bovisa è stato attivato un percorso di consultazione e partecipazione pubblica Io non ho sentito ma immagino che la domanda fosse sulla seconda la domanda sulla Bovisa giusto ecco allora sulla Bovisa ci stiamo sbloccando giusto adesso dopo un lungo periodo di la Bovisa è innanzitutto per i non milanesi diciamo è un'area a nord di Milano dove c'erano dei gasometri dei siti di stoccaggio di gas idrocarburi che in fase di dismissione da tanti anni confina con uno scalo ferroviario dismesso un'area molto grande e diciamo che è cresciuta la vegetazione spontanea all'interno c'è stato per negli ultimi anni un lungo contenzioso per stabilire come procedere se procedere alla bonifica dei terreni in che modalità tutta questa fase si è chiusa e quindi adesso si andrà avanti nella creazione diciamo di spazi con il Politecnico che ha una sede lì vicino e che deve ampliarsi un parco pubblico un po' di residenziale c'è il piano di governo di territorio che diciamo governa le percentuali a disposizione un atelier di partecipazione particolarmente approfondito era stato portato avanti nella passata amministrazione prima che tutto si bloccasse appunto per i vari contenziosi e quindi c'era stato un workshop che definiva in maniera abbastanza dettagliata come fare e che aveva coinvolto decine e decine di persone che hanno interessi o vivono nella zona quindi diciamo non si riparte da zero si riparte da quello che era stato un percorso partecipativo molto importante però si diciamo per tutto quello che riguarda la progettazione di massima e quella di dettaglio perché poi si può fare anche progettazione partecipata sui singoli interventi un'altra domanda arriva da Cinzia Diferenza nel frattempo chiedo se qualcuno vuole fare un percorso sicuramente aperto è una cosa che vedremo insieme al mio collega assessore partecipazione ai processi decisionali è sempre piuttosto indefinito che differenza di restituzione dei risultati di questi processi avete sviluppato ad esempio tra il dibattito pubblico sulle opere e i patti di collaborazione di risultati all'interno di risultati dei risultati molto ampio ci sono processi partecipativi a intensità alta e a bassa intensità, non è che quelli processi deliberativi, decisionali siano necessariamente più indicati o più giusti rispetto a dei processi a intensità più bassa, l'importante è che le cose siano chiare quando si incomincia i percorsi di partecipazione, quindi che ci sia scritto tutto e che si segua poi le regole che ci si è dati in tutti i vari passaggi, per cui in alcuni casi anche una semplice consultazione può andare bene, noi stiamo facendo consultazioni per esempio, adesso c'è tutta una questione relativa alla sistemazione delle fermate della metropolitana che stiamo ultimando, dell'ultima linea della metropolitana, vedere come ci sono diverse opzioni progettuali, si possono fare delle consultazioni per vedere se scegliere una modalità piuttosto che altra. Il bilancio partecipativo invece è stato un processo che ha deliberato proprio la destinazione dei fondi sui progetti più votati e selezionati, non è che bisogna sempre fare quello o che l'altro non va bene, diciamo che più che altro bisogna essere ben chiari ogni volta che si parte se questo sforzo servirà, perché comunque parliamo di tempo dei cittadini, che i cittadini dedicano per poter interagire, proporre, dedicare la propria competenza per prendere decisioni, se produrrà alla fine qualche cosa che sarà assunto qualsiasi sia il risultato o se si parla semplicemente di una raccolta di orientamenti. Per esempio il dibattito pubblico Navigli, come tutti i dibattiti pubblici, come anche in Francia, non è un percorso deliberativo, è un percorso che serve a far emergere delle osservazioni, che nel nostro percorso aveva la previsione che tutte le osservazioni dovevano essere controdedotte e motivate nella ragione per cui erano accolte o meno. Quindi se vogliamo erano persone che ci dicevano, davano dei suggerimenti, davano delle indicazioni senza che si fosse promesso di fatto che in base all'esito delle osservazioni raccolte saremmo andati a realizzare o non a realizzare l'intervento e in che modalità. Però abbiamo raccolto talmente tante osservazioni e abbiamo dato una lettura molto chiara, per cui abbiamo deciso proprio di modificare il progetto. Alla fine aveva senso solo se si teneva conto delle osservazioni che ci dicevano, come anticipavo prima, di realizzare un progetto più ambizioso, se vogliamo che tenesse conto dei territori esterni anche al comune, della continuità navigabile, di tutto quello che è la transizione ambientale, per sfruttare una grande opera, per contribuire anche alla transizione ambientale. Quindi un processo che nelle intenzioni non aveva, non era come un referendum, diciamo che lo facciamo o non lo facciamo, ma ci ha consentito una conoscenza del territorio e un livello di consapevolezza e di competenza che è stato anche meglio, nel senso che non abbiamo detto, cioè non è stata una partecipazione inconsapevole sulla base di un'opzione binaria, prendere o lasciare, che ci lasciava poche strade. Cioè è stato un dibattito che ha fatto crescere la consapevolezza, ci ha fatto ragionare e ci ha fatto anche cambiare la proposta. Quindi devo dire qualche cosa sicuramente che ci ha fatto crescere e che è stato sicuramente molto utile per tutti quelli che hanno preso parte. Quindi in sintesi le differenze di restituzione dei risultati sono molto diverse a seconda di come è disegnato il processo partecipativo. La cosa peggiore che si possa fare è non fare nessuna restituzione. Nel senso che la cosa fondamentale è che per qualsiasi sia l'obiettivo del percorso partecipativo, qualsiasi sia l'intenzione e l'intendimento alla fine di questo, deve essere chiaro come ci si è arrivati, il perché e quindi quali sono stati i risultati dell'impegno di chi ha partecipato al percorso. Quindi cerchiamo di fare anche generando open data, facendo rendiconti alla fine di tutti i percorsi. Allora sui social io sono convinto che siano uno strumento come tanti di dialogo o piuttosto che di contatto con alcuni cittadini. Innanzitutto bisogna essere consapevoli che i social non ce li hanno tutti o comunque non ce li hanno tutti, non hanno tutti gli stessi social. Per cui noi in tutto quello che è il dialogo con i cittadini ormai abbiamo una prospettiva e un approccio multicanale che usa i social, usa facebook, usa twitter, usa instagram, usa il telefono che è ancora di gran lunga lo strumento di contatto maggiore, abbiamo quasi un milione e 600 mila telefonate per le informazioni più variegate, usa i contatti sul territorio, gli sportelli, le riunioni, le assemblee, i municipi, usiamo moltissimo il sito internet e questi portali che vi ho illustrato. Quindi i social sono uno degli strumenti che servono più che altro per informare e in qualche caso per dare delle risposte, delle spiegazioni. In nessun caso io penso che i social possano essere un ambiente ideale per svolgere dei processi partecipativi per tantissime ragioni, innanzitutto perché le persone che si confrontano lì sopra non sono persone reali o certificate, o non possiamo sapere che non ci sia un utilizzo distorto dei social perché i dati di tutto quello che va sopra non è di proprietà pubblica, non sono dati aperti, quindi non sappiamo nei risultati di queste interazioni, non li possiamo conservare, non sono degli strumenti efficienti perché tutto quello che si scrive un po' si perde nelle timeline dei social, andare a ripescare, a ritrovare dei contributi è molto difficile. Quindi sì, li usiamo ma più che altro per raggiungere una parte del nostro target e poi avere delle interazioni invece strutturate su quelli che sono gli ambienti creati appositamente per fare partecipazione come il sito di bilancio partecipativo, la nuova piattaforma di consultazioni o in qualche caso i siti fatti apposta per supportare i processi partecipativi o le incontri sul territorio. E per confrontarsi sulle scelte fatte. Io direi a questo punto non vedo altre domande, ringrazio l'assessore per averci dedicato del tempo questa mattina, ringrazio i partecipanti per essere stati qui con noi e a questo punto direi di chiudere e buona giornata a tutti.